La prima regata mini è andata bene, sono contento, sono contento di dirlo a lei con Ale, sono stati bene. Devo ringraziare veramente Ale che è venuto in barca e ho imparato tanto. La regata è andata ovviamente bene, dovevamo arrivare davanti perché finiva il compleanno dei miei tu skipper e doveva vincere questo regalo del compleanno, ma l'estate è la mia prima cosa. E' stato il primo anno in cui abbiamo fatto il percorso costiero e quindi, a differenza degli altri anni che ci siamo trovati, quest'anno siamo rimasti sulla costa italiana e devo dire che il percorso è stato molto interessante, molto più vario, abbiamo avuto sorprendenti, quindi sono stati anche veramente veloci.